Il Platform Engineering è una disciplina che si occupa dello sviluppo e della manutenzione di piattaforme software che supportano un'ampia gamma di prodotti e servizi. Negli ultimi anni si è registrato un aumento dell'interesse verso questa disciplina, con la crescita di team di sviluppo dedicati e la creazione di posizioni lavorative specifiche in questo settore. In questa puntata cercheremo di capire meglio di cosa si tratta insieme a Mitch Murabito. Eccoci allora con Mitch. Ciao Mitch, come stai? Ciao, tutto bene. Tu come stai? Bene, bene, bene. Sempre incasinati, ma ci piace così. Se abbiamo scelti questo lavoro, secondo me è più che normale e ovvio. In fondo ci piace anche questo. Ah, certo. Non ci vogliamo annoiare, ecco, questo ci piace. Allora, Mitch è un caro amico, io non lo vedo da un po' di tempo di persona, ma mi fa sempre piacere sentirlo e parlare con lui. Però qualcuno magari, qualche sfigato in giro non ti conosce, magari facciamo un po' un'introduzione, dai. No, dai, ci sta che qualcuno non mi conosca. È vero che è giro in lungo e in largo, in Italia tantissimo e ultimamente anche in Europa. Però ci sta magari alcune volte conferenze diverse. Allora, mi chiamo Mitch Murabito, poi in realtà tutti mi chiamano Mitch. Nella vita di tutti i giorni sono un developer advocate in un'azienda di prodotto che si chiama Mia Platform. Da sempre, anche il motivo per cui alla fine poi noi ci conosciamo, mi piace far parte di community, partecipare alle conferenze, tenermi aggiornato, sarà tutto quel mondo lì. E quindi è per questo che ho girato tanto, soprattutto prima della pandemia facevo un botto di talk. Ora non so tu come sei messo. No, ormai quasi zero, però devo riprendere, dai. Io prima della pandemia facevo 33 come hobby, perché all'epoca non facevo questo di lavoro. L'anno scorso, che diciamo che la situazione lì è presa abbastanza bene, infatti fa una ventina. Comunque non è male. Dai, dai, ce la facciamo. Allora vederci a qualche evento, sicuro. Quindi fondamentalmente, giusto per concludere, sono una figura tecnica molto appassionata di community e che si è prestata al lato divulgativo sulla tecnologia. Beh, io vorrei anche, anche se tu magari non sei d'accordo, ma io vorrei anche far conoscere il tuo canale YouTube, che è fantastico. Developers Life, giusto? Esatto. Su YouTube cercate Developers Life, con l'AS Developers Life Tutto Unito. E sostanzialmente è un canale dove racconto la vita, il lavoro dello sviluppatore. L'ho aperto, proprio perché durante gli ultimi due anni ci sono state molte meno conferenze dal vivo, direi zero. E quindi, in modo per riempire il tempo che non passavo viaggiando, preparando slide per questi eventi, ho deciso di rinvestirlo sul canale. Poi diciamo che il canale è andato bene, quindi è molto, molto sfidante portarlo avanti, ma anche, come dire, regala molte soddisfazioni e quindi ho deciso di mantenerlo, nonostante tutti gli impegni che sono ritornati come e più di prima. Sì, 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 no, ma il canale va benissimo anche perché i temi sono, sinceramente, sono molto interessanti e secondo me la condivisione è lo spirito con cui io e te ci siamo incontrati, insomma, e che tu porti avanti sempre con grande passione. Io, insomma, per chi non veramente, per quei pochi che non ti conoscono, insomma, poi avranno modo di conoscerti magari a qualche evento, capiranno la persona che sei. E sei anche una persona molto curiosa su tanti argomenti, io vedo sempre che parli anche di argomenti che io personalmente tante volte ho sentito vagamente, però con te riusciamo ad approfondirle anche in maniera un po' più esaustiva. Per esempio, in questa puntata qui, diciamo, l'invito è stato fatto per parlare di platform engineering. E che cos'è? Dai, facciamo una prima introduzione su che cos'è il platform engineering. Ok, allora, partiamo subito da, come dire, un presupposto. È una cosa abbastanza nuova, ok, nel nostro settore poi può significare tutto o niente, però diciamo che si sta evolvendo in questo momento. Quindi, sulla definizione ufficiale ci possono essere tanti sé, tanti va, in base a chi la racconta e, insomma, chi ne parla, insomma, possono avere significati diversi. Diciamo che fondamentalmente, data una definizione standard, vendor network network, è una disciplina che regola la costruzione e la gestione di internal developer platform, self-service per lo più, che servono a rilasciare il software e gestire tutto il ciclo di vita, diciamo, gli applicativi, in maniera praticamente autonoma. Se ci chiediamo di personal developer platform, possiamo dire che è una piattaforma dedicata agli sviluppatori interni di un'azienda, di una company, per facilitare l'interazione con l'infrastruttura, velocizzare gli sviluppi e migliorare soprattutto la developer experience, che in questo momento è una roba che, come dire, inizia a essere un altro tema in focus, che magari un giorno, se vuoi, facciamo una chiacchierata anche su quello. Volentieri, assolutamente. Il platform engineering, tu l'hai detto, è un termine che è abbastanza recente, ma se ne sta parlando tanto. Perché? Qual è il valore aggiunto del platform engineering? Allora, diciamo che, allora intanto, poi magari facciamo un esempio pratico sul funzionamento, su come tutto questo poi si concretizza. Diciamo che nell'era del cloud native, DevOps, continuous integration, delivery, self-service, che più ne ha più ne metta, c'è una, come dire, rapida evoluzione dei servizi, delle richieste delle aziende, quindi magari l'aggiornamento di business, l'aggiunta di nuovi business, per, insomma, le aziende che poi magari vivono di quello, fa sì che oggi, develo per molto più di ieri, il che, diciamo, tra virgolette è positivo per alcuni lati, ma negativo per altri, devono iniziare a conoscere sempre più cose. Quindi oggi un developer tendenzialmente, magari mette mano anche a Docker, deve conoscere più o meno come funziona una pipeline di CI, CD e tutte quelle cose lì. E chiaramente queste cose pesano, pesano in termini di conoscenza, quindi non basta più studiare il codice, il linguaggio, il framework, le cose che, insomma, erano necessarie fino a 15 anni fa, ma bisogna fare un ulteriore step. Ovviamente questa cosa è una cosa positiva, perché il lato developer ovviamente si acquisiscono competenze trasversali, si vedono come funzionano altri settori. Lato però, come dire, produttività vera e propria, alcune volte magari ai developer non ne frega niente di sapere come funziona la pipeline, loro vogliono concentrarsi su alcune cose e fare solo quelle. Ed è il motivo per cui sono nate varie metodologie come il DevOps. Ok? Fin qui direi tutto facile. Ovviamente anche il lato DevOps, all'inizio, diciamo, chi si occupava di quell'aspetto lì, si occupava ad esempio di creare le pipeline, di gestire i progetti, le infrastrutture, di fare una serie di operazioni, di operation più ampie, che però ovviamente col passare del tempo diventano sempre più, come dire, ripetitive. Cioè immaginati magari il progetto molto grande su cui devi andare a creare vari ambienti, devi andare a creare varie cose, effettivamente il lavoro che queste figure fanno è sempre lo stesso. Quindi preparo l'infrastruttura, ci metto sopra le software di base che mi servono per far funzionare l'ambara run e così via. E ovviamente tutte queste operazioni iniziano a diventare delle scocciature. Tutto, diciamo, questa roba può essere agevolata e migliorata utilizzando appunto questo nuovo approccio che è quello del platform engineering. Quindi è un approccio alternativo al DevOps, all'SRE, per esempio? Non proprio. Diciamo che è un approccio complementare. Alla fine, la cosa che dico sempre, quando si parla di qualsiasi rivoluzione, anche magari sui developer, cioè non è che il lavoro sparisce e ne nasce uno nuovo, che è una cosa totalmente diversa. Cioè queste piattaforme alla fine vengono governate, tra virgolette, vengono ampliate e migliorate proprio da figure come DevOps e SRE, no? Quindi sostanzialmente non è un approccio alternativo, quindi o quello oppure il DevOps, ma è un approccio appunto complementare. Quindi alla fine l'idea è che così come i developer si sono stufati magari nel corso del tempo di scrivere funzioni basilari e quindi usano i framework per avere una serie di cose già fatte, il platform engineering mette a disposizione di developer e Ops una serie di strumenti che poi li agevano nel lavoro, diciamo, nel day by day. E la cosa più importante è che questa roba è molto bella perché ti toglie le cose ripetitive e ti permette invece di concentrarti su quelle invece più stimolanti, problemi un po' più complessi, le cose un po' più sfiziose. Passami il termine. Eh certo, certo. Però tu hai parlato di developer e di Ops, no? Quindi questo è un approccio che serve principalmente a questo tipo di figura, però a chi si occupa della parte tecnica come developer e Ops? Allora, diciamo che sono le persone che traggono il vantaggio più grande lato utilizzo, diciamo, sulla creazione, no? Quindi, allora facciamo un esempio con Greto, così diciamo un po' più chiaro a chi ci ascolta. Io da developer magari ho la necessità di creare il mio microservizio in .NET oppure in Node. Facciamo .NET proprio come esempio visto che il podcast, il nome lo conosciamo. Quindi cos'è che faccio? In ottica sviluppo normale inizio a creare il mio codice partendo da zero, tendo in servente, poi aggiungo le librerie, tutto quello che mi serve, poi inizio ad aggiungere il docker file, inizio a scrivere la file, inizio a fare tutte queste cose. Ovviamente queste cose in una fase zero del progetto sono molto dispendiose perché ci devo scrivere il codice, dove si assicura che tutto funzioni, man mano che metto le librerie devo stare attendo a metterle nel posto giusto e nel momento in cui io devo rifare questa operazione la seconda volta, ora non dico sempre, io spero mai, però purtroppo è così, cosa succede? Io riprendo da zero, quindi ricreo tutto il template, tutte le cose e da quel momento in poi poi effettivamente vado a lavorare sulla funzionalità che mi è stata richiesta. Ora, questo è l'approccio diciamo normale. Cosa succede? Io invece da developer, personalmente io ho scritto codice per tanti anni, non frega niente di tutto quello che ti direi infrastruttura, ma non in termini risorse, cioè il boilerplate, la parte iniziale, la configurazione, lo che fa, io li vorrei già fatti. Quindi questo approccio cosa ci permette di fare? Ci permette di praticamente prendere da, ad esempio un marketplace, poi magari dopo approfondiamo, un template in .NET già fatto, con la versione, il framework, le librerie di cui ho necessità, inserirlo all'interno della mia piattaforma, quindi nel marketplace lo aggiungo, questo cosa fa? Mi crea magari un repository git dove io apro e trovo già tutti i file, ad esempio di test preconfigurati, tutta la pipeline, il Dockerfile già fatto, e magari già un bel puntatore che mi dice in questo punto del codice scrivi la tua business logic, ok? Quindi questo è come agevole il developer, quindi il developer smette di fare magari delle cose che sono molto ripetitive e si concentra invece sulle parti più, come dire, ribadisco, più sfiziose. Ovviamente questa cosa ha un grosso vantaggio perché se il developer di ieri, ora ovviamente per chi ci sta ascoltando sono assolutamente esempi casuali, imbiegava un giorno per crearsi il boilerplate e poi un giorno per sviluppare la funzionalità, oggi il developer del giorno per la creazione del boilerplate lo salta, paro paro, ok? Magari ci sarà qualche piccola modifica da fare, però tendenzialmente lo salta. Questo cosa significa? Significa che io posso fare la stessa cosa che facevo prima in due giorni in un giorno. Ora, la cosa che la maggior parte delle persone dirà è, ok, così i developer perdono il lavoro, no? Perché lavori la metà e allora in realtà no, perché io in quei due giorni posso non solo scrivere il codice che magari prima scrivevo di fretta perché dovevo arrivare, ma posso scrivere il codice, testarlo bene, essere sicuro di aver scritto la giusta documentazione o una serie di cose e quindi posso focalizzarmi invece sulla parte importante del lavoro. Sulla qualità. Esatto, quindi aiuta sicuramente il developer, ma se la guardiamo anche sotto l'ottica del business, ok, è una parola che a noi developer magari non piace spesso, è conveniente perché magari nella stessa quantità di tempo sviluppiamo dei prodotti milioni, se ci sono delle urgenze abbiamo dei margini molto maggiori sul lavorare effettivamente delle funzionalità e aggiungo un piccolo, come dire, una piccola parentesi, ma poi se vuoi approfondiamo, ovviamente cosa succede? Che io una volta che ho sviluppato il mio servizio, chiamiamolo servizio, potrebbe essere un micro servizio, una funzionalità o qualcosa e se adotto delle tecniche giuste tipo renderlo modulare, scrivere l'API in un certo modo, insomma renderlo diciamo riutilizzabile che poi alla fine è quello lì, cosa succede? Che io quel micro servizio magari me lo prendo e me lo posso giocare per altre mille robe, quindi adesso ho creato il sistema di login, tutti i progetti che farò da quel momento in poi, il sistema di login è fatto, è già modulare, già micro servizio, magari è già partito da un boilerplate che ha delle determinate caratteristiche, i test, la documentazione, espone l'open API con lo swagger tutte quelle cose che ci piacciono tanto, quindi da quel momento in poi dopo che ho finito il mio micro servizio con la mia business logic lo metto da parte, lo salvo in un marketplace e tutti i team della mia azienda anche se noi non ci conosciamo possono riprenderlo e riutilizzarlo e farci cose fantastiche e risparmiare ulteriormente tempo. Quindi è un approccio quasi da low code, no code, come se tu già avessi dei componenti già pronti da riutilizzare e assemblate rapidamente e concentrarsi poi sul core dell'applicazione o della funzionalità che stai implementando alla fine? Qualcosa del genere? Sì, diciamo in parte, cioè nel senso sì, perché alla fine se tu hai sviluppato una funzionalità altamente configurabile con l'API in un certo modo magari hai necessità solo di passargli una configurazione per farla funzionare in un determinato modo e ovviamente in questo caso parliamo proprio di low code o addirittura no code quindi magari sviluppi anche una bellissima interfaccia che con drive and drop ti permette di fare tutto però come dire non è solo quello è sempre un pochettino tornando indietro non è che questi sistemi in genere ti permettano di fare qualsiasi cosa ci sarà sempre l'esigenza molto particolare dove devi comunque aggiungere le funzionalità e ribadisco ora ti faccio un esempio stupido io ho lavorato tantissimo come frontend developer io ho fatto un po' di tutto nella vita tra cui anche il frontend developer e io la cosa che mi chiedevo molti anni fa ti direi anche da dicendo anni fa è ma come può essere che non esiste un sistema per cui io gli do dei parametri e lui la tabella me la scrive senza che io mi do schiesti milioni di tag da soli ora ovviamente all'epoca avevo molto meno esperienza di ore quindi come dire la cosa non mi pesava tanto ma io oggi delle cose così non dico banali perché in realtà poi non è una questione di banalità ma ripetitive non le vorrei scrivere cioè io vorrei dargli una configurazione e dire questa tabella ha 5 colonne A, B, C e D e voglio che sia ordinabile ricercabile abbia un paginatore e tutte quelle cose lì gli passo la configurazione il frontend fa la magia e mi genera una tabella perfetta e così con tutto quindi se devo fare dei pagamenti ma perché scrivere mille sistemi di pagamenti diversi che poi comunque vanno manutenuti devi stare attendo che tutte le librerie la sicurezza di tutti sia corretta io da azienda ne sviluppo uno se ho necessità di ampliarlo aggiungo delle funzionalità e vado così sul discorso low code no code quindi in parte c'entra perché chiaramente se io devo andarmi a fare la classica macchina stati finiti che sicuramente in workflow ne abbiamo viste centinaia e migliaia da sviluppatori quello è un problema standard si può standardizzare categorizzare si può generare magari una macchina custom partendo da una configurazione partendo da lì quindi in parte c'entra ma non è solo quello no la cosa che stavo pensando adesso mentre parlavamo appunto di questo approccio e il mio il mio timore è che questo approccio possa diciamo avere successo solo nelle grandi company sono delle grosse aziende e non sia un approccio molto facile da introdurre in aziende piccole o poco strutturate insomma questo è perché comunque è un approccio vincente secondo me però ha bisogno comunque di una struttura dietro le spalle che possa poi sorreggere questa disciplina no? chiamala così o mi sto sbagliando secondo te allora questo è un 50-50 come dire come tutte le cose ha dei lati estremamente positivi e dei lati estremamente negativi allora partiamo dai vantaggi ok quindi abbiamo già visto praticamente qual è il vantaggio andiamo a vedere il passami il termine il qual è il vantaggio di adottare strategie di questo tipo quindi un approccio sul platform engineering è quello di ridurre i tempi i costi la possibilità di asloderno oggi magari la pipeline la scrivo bene domani sbaglio una stupidaggine magari non partono i test quindi sostanzialmente questo genere di approccio è utile per tutti ok by default chiaro è che se sei una grande azienda hai anche delle possibilità diverse rispetto a una piccola azienda la prima possibilità ora ovviamente di estremizzo spero che non funzioni così nelle grandi aziende se tu sei una grande azienda hai milioni di euro per assumere test tu assumi i test perché si mette lì a fare i test a mano ok io non lo auguro da nessuno e magari questi problemi li previeni se invece sei una piccola azienda come dire la tua efficienza parliamo proprio di efficienza è molto importante per poi per permetterti di scalare di fare delle cose grandiose anche con team piccoli e quant'altro quindi io ti direi che paradossalmente è molto molto più utile per aziende piccole chiaramente le aziende piccole hanno un'altra difficoltà che è quella di come faccio a fare tutta questa roba perché ovviamente ci saranno tante competenze ora senza come dire scendere troppo nel dettaglio esistono delle piattaforme che già fanno cose di questo tipo ad esempio l'azienda per cui lavoro sviluppa proprio un'interna developer platform oltre a tante altre cose che fanno questa cosa ce ne sono anche tante altre quindi un'azienda piccola mai non costruisce tutto da zero e il motivo è che costruire tutto da zero costa ti costa persone costa tempo e ti rende suscettibile agli attori quindi per l'azienda diciamo medio piccole l'approccio migliore poi è quello di magari andare su qualcosa che già esiste ma se ci pensi è esattamente quello che è successo con il DevOps quindi tu potevi scriverti i tuoi sistemi di script che facevano delle pipeline poi è arrivato il Jenkins è arrivato GitLab sono arrivate mille piattaforme che lo facevano per te e quindi è molto più conveniente istruire una persona come scrivere la pipeline in quel modo utilizzare un prodotto che già esiste tra l'altro questo è un approccio che non ha neanche un legame con dei linguaggi o dei framework particolari può andare bene un po' su tutto allora sì nel senso che ovviamente poi a questo punto c'è da discernere le due grandi categorie se sei chi sviluppa la piattaforma qualche vincolo ce l'hai perché se faccio l'esempio vai sul cloud ovviamente i linguaggi sul cloud sono quelli lì le interfacce con i grossi cloud provider i vendor sono quelli lì non è che puoi scappare più di tanto cosa ci sviluppi dentro dipende da te quindi faccio un esempio stupido in genere queste piattaforme alla base hanno Kubernetes ok ho distribuzioni affini quindi insomma più o meno è quello lì cosa succede tu su Kubernetes crei i tuoi container nel tuo linguaggio preferito e l'applicazione in gira sul come funziona Kubernetes gli operatori eccetera lì come dire per dire Go ad esempio in quel caso specifico ne fa la padrona quindi dipende un pochettino che cosa si intende però sull'utilizzo verso le aziende chiaramente come dire c'è abbastanza flessibilità nell'utilizzare qualsiasi tipo di linguaggio qualsiasi tipo di framework di libreria anche l'integrazione ora viene stiamo parlando un po' dare argomenti quindi anche lì quando realizzi un'applicazione magari molto complessa inizia a essere microservizi ti servono API gateway il sistema di autorizzazione e autenticazione cioè se tu devi prendere e mandare tutta questa cosa da zero ovviamente da un costo cioè un costo enorme perché devi studiare come funziona devi integrare tutto devi fare un sacco di cose se invece utilizzi ad esempio la piattaforma così cosa succede che tu magari molti componenti ce li hai già fatti che siano della piattaforma o che li hai creati precedentemente e qualsiasi progetto aggiungi ti permette di fare cos'è come dire più velocemente ma nella qualità enorme ti faccio un esempio specifico su un progetto open source che io e un po' di colleghi stiamo portando avanti che si chiama Rond poi non so se abbiamo modo di mandare il link magari questo certo e allora Rond che cos'è è un progetto sostanzialmente che si mette davanti un API e permette di sostanzialmente applicare delle regole di R-Buckman non solo su tutte le chiamate in ingresso e in uscita per aggiungere dei filtri rimuovere dei dati gestire autorizzazione quindi non l'autenticazione l'utente è già autenticato col tuo sistema Rond prende l'autenticazione e dice ok questo utente non può leggere tutti i dati ma può leggere solo un subset applico by default una sub query per prendere solo quello che gli serve se ieri volevamo fare un sistema di questo tipo dovevamo prendere la nostra code base e smondarla in ogni punto in cui c'è un'interazione verso l'esterno in detture diciamo in ingresso in uscita andare a fare le modifiche con questo genere di piattaforme invece è facilissimo mettere qualcosa davanti e intercette il traffico in ingresso in uscita e quindi sostanzialmente cambiare il comportamento del nostro servizio lato autorizzazione ovviamente in base all'esigenza specifica senza modificare una linea di codice questa cosa è pazzesca tu puoi prendere lo stesso servizio di lettura e scrittura sul DB e adottarlo a tutte le esigenze che hai in azienda semplicemente con una configurazione il che ovviamente è fantastico questo mi potrebbe anche servire poi me lo guardo questo progetto perché è veramente interessante no ma un'altra cosa che ti volevo chiedere stiamo parlando un po' dei vantaggi tu hai avuto esperienze in questo tipo di metodologia di approccio ma in termini proprio di dimostrazione diciamo dell'efficienza di questa pratica tu hai qualche qualche metrica qualche esperienza da condividere per farci capire un attimo qual è l'impatto di questo di utilizzare la pratica per me in generica allora è una bella domanda io ovviamente come dire essendo una roba nuova non è che c'è un numero che è statisticamente valido come sappiamo un cambiamento statistico non è la mia esperienza ma è molto più di questo però la cosa che posso raccontare sono diciamo qualche esperienza nuova e qualche esperienza vecchia rispetto al mio lavoro quotidiano giusto per portare a capire un po' di cose e allora partiamo dall'esperienza vecchia allora alcune volte magari capitava di dover fare ora faccio l'esempio più subito l'integrazione dei dati io ho due sistemi che non si parlano devo fare in un qualche modo un API che chiamata mi dà i dati diciamo come dire aggregati dei due sistemi quindi io classico esempio di un CRM da un lato con tutti i dati degli utenti e di un e-commerce dall'altro con tutti i dati degli ordini degli utenti e io voglio stamparmi con un'unica API tutti i dati dell'anagrafica dell'utente da una parte e degli ordini che ha fatto dall'altra ora a me è capitato in passato di fare questa cosa con 8000 tabelle 9000 tabelle su alcuni db e quello cosa mi comportava comportava che io ogni volta avevo un'esigenza così scrivevo un API che chiamava i singoli db li aggregava e li tirava via fatto per 8000 tabelle non ho idea del tempo ci abbiamo messo anni decenni probabilmente ok ora cosa succede oggi invece queste cose sono possibili da fare in pochissimi giorni ad esempio immaginati tutto il sistema di digital integration che proprio sarebbe un altro argomento quindi poi non lo approfondiamo però giusto per dire due parole possono essere utili a che ci ascolta con il sistema di digital integration hub tu questa roba ce l'hai in ore ok ovviamente non sulle 8000 tabelle ma se prima impiegavo un giorno per un'aggregazione oggi impiego 20 minuti capisci bene che il risparmio è enorme e questa cosa io non nego che mi è capitato ad esempio di aver lavorato proprio con il progetto di integrazione di cui parlavo prima e poi essere venuto a lavorare in mia e aver scoperto questo fantastico mondo con tantissime cose che facevano a caso mia all'epoca ma che purtroppo non erano così in voga come oggi e rendermi conto che nonostante erano passati anni da quel progetto lì avrei potuto tranquillamente chiamare il mio referente di allora e dirgli guarda che se iniziate a usare questo oggi probabilmente finite molto prima rispetto al progetto che è ancora in corso quindi il vantaggio è quello lì il vantaggio è quello di non dover reinventare la ruota ogni volta che a noi developer diciamo di base non piace mi ricordo che quando ho iniziato a scrivere il codice web non esisteva neanche jquidy ok probabilmente un'epoca che magari anche molto ascoltatori anche io c'ero anche io c'ero quell'epoca se tu volevi fare una chiamata asincrona era appena stato inventato Ajax che si chiama come il detersivo dello smacchiatore cosa succedeva che tu per fare una chiamata Ajax compatibile con tutti i browser ti dovevi fare 100 200 righe di codice perché avevi tutte le eccezioni le possibilità le configurazioni certo poi prendevi quella roba la mettevi su una libreria e più o meno era a posto però usciva il browser nuovo e quindi poi dovevi aggiungerlo verificare che tutto funzionasse quando ho scelto JQuery stiamo facendo veramente l'esempio più base che mi viene tutta quella roba lì è stata tradotta in tre righe di codice quelle tre righe di codice hanno fatto tanto la differenza perché io da quel momento in poi ogni volta dovevo scrivere quella parte lì non dovevo più metterle lì due giorni le mettevo cinque minuti quindi il vantaggio di questo genere di cose ad oggi ti direi che non è ancora facilmente misurabile dipende dal caso dal contesto da mille altri fattori però è senza dubbio innegabile che in molti contesti e come tutte le innovazioni non è per tutti come dire aiuta tanto e può permettere di effettivamente produrre risultati molto alti qui il discorso è utilizzare buonsenso per cui alla fine fondamentalmente è una cosa che non è anche in questo caso anche col platform engineering non penso che si sono reinventati della ruota è comunque un concetto che già c'è è quello di riutilizzare e di rimodulare cose che già hai fatto in passato per evitare di farlo più volte n volte inutilmente quindi è comunque una questione di buonsenso che in qualche modo dovremmo già aver applicato però questa è una disciplina diciamo una metodologia un approccio come vogliamo chiamarlo che comunque ci dà più o meno delle linee guida su come poi fare questa cosa qui ma non potrebbe essere pericoloso attaccarci un'etichetta e magari in futuro poi questa che adesso è diventata una buzzword importante improvvisamente potrebbe sparire dalla nostra vita ecco cioè come tante cose non c'è questo pericolo allora aggiungo una cosa importante che secondo me potrebbe non essersi capita prima cioè tutta questa parte non ha a che fare solo col software ma ha a che fare anche con l'infrastruttura per questo prima ad esempio parlavamo di DevOps faccio un altro esempio che secondo me può aiutare ulteriormente la comprensione oggi io se sono un developer di un'azienda ho necessità di avere un ambiente di test e non adotto queste metodologie in genere cosa faccio apro un ticket invio una mail qualcuno mi crea l'ambiente fa tutto il setup le cose e due o tre giorni dopo ho il mio ambiente dove effettivamente fare i test installare le mie robe ovviamente sono due o tre giorni ok tutto questo genere di approccio è invece self service quindi all'inizio lo dicevamo c'è un approccio self service questo signore è il developer entra sul suo portale sul suo IDP interno del developer platform clicca su mi serve un ambiente con queste caratteristiche e top tre minuti dopo ha l'ambiente pronto e all'uso ora è una buzzword questa è una domanda come dire abbastanza tosta perché nessuno in realtà nei nostri settori sa come evolveranno le tecnologie allora la cosa importante nel comprendere diciamo proprio tutto quello che ha a fare con platform engineering è che non è effettivamente una roba nuova ok è un insieme di cose che già esistono di già che già utilizziamo quotidianamente no messi assieme che permettono di agevolare il lavoro appunto di developer e ops ora faccio un altro esempio sempre per come dice quando più credo possibile oggi se io voglio deployare un sistema su kubernetes microservice tutto l'ambiente e io non è che sia il più grande esperto di come si fa in casi molto complessi cosa succede? succede io devo andare a scrivere una quantità di yaml file che poi servono a kubernetes per fare quello che deve fare diciamo orchestra i miei microservizi che è enorme richiede un sacco di tempo un sacco di sforzo di sacrificio e quant'altro ora platform engineering mi permette di fare questa cosa in maniera automatica perché io pigio il bottone ci sono delle pipeline che hanno scritto una e una sola volta i devops che creano tutti questi file per me creano le istanze i nodi insomma tutto uno che mi serve mettono il mio software lì e la cosa gira se domani sparisce questo approccio a me so che sia possibile cosa succede? e io ti direi che torniamo a scrivere gli yaml quindi non è una cosa così come dire così cioè non penso che succeda anche perché se poi pensiamo ad altre rivoluzioni di questo genere poi potremmo parlare di tecnologie web iniziare oggi e finire per una settimana però ne faccio una che è molto più vicina a questo settore con quella devops quando si inizia a parlare di devops credo 2007 2008 cioè tu sentivi sta roba automatizzare continuare a vivere continuare a crescere e tu da livello nel 2007 2008 pensavi ma che mi serve sta roba esatto è vero oggi oggi è la base qualsiasi sistema oggi non puoi farne più a meno perché sei matto se lo fai a mano è chiaro esatto perché poi in piccolo il devops oggi magari è un interiore gradino tutte queste cose sono agevolazioni cioè permettono di lavorare in maniera più tranquilla ma è poi lo stesso cosa di quando parliamo dei framework perché non si usa più tantissimo io direi non si usa più però purtroppo alcuni lo usano jQuery e si usa invece React Angular o chi più ne metta perché questi sistemi hanno permesso di rendere il lavoro dello sviluppatore più facile e lineare è chiaro che magari un framework specifico come dire non ottiene la popolarità e quindi come dire va a morire però il movimento dei framework invece continua a sopravvivere quindi quando noi parliamo di platform engineering non parliamo di parliamo di una metodologia quindi non è nulla di specifico è più un modo di pensare e di fare le cose quindi secondo me non è assolutamente una buzzword e sta cambiando molto il mondo cioè noi di Barisca lavoro in mia platform in un'azienda abbiamo l'interno di un developer platform e iniziamo a vedere molto il cambiamento anche a livello mondiale sull'interesse verso queste cose il che vuol dire ci fa ben sperare per il futuro guarda io sono sicuro che come dici tu si tratta comunque di un approccio e quindi di conseguenza oggi si chiama developer platform domani magari qualcuno gli modificherà il nome aggiungendogli un altro pezzo oppure si evolverà in developer enterprise platform non lo so ci sono queste però effettivamente non essendo di fatto un prodotto ma un approccio una metodologia è basato sull'organizzazione dei processi alla fine quindi fondamentalmente è qualcosa che può star bene nelle piccole grandi medie aziende e e comunque può andar bene per qualsiasi tipo di realtà sia developer ma non solo developer potrebbe anche essere nel marketing o qualche altra area dove comunque hai delle attività da realizzare e che sono ripetitive e che hanno dei template che possono essere migliorati banalmente se già pensiamo alle presentazioni che fanno i commerciali che utilizzano dei template in qualche modo già più o meno possiamo immaginare quello che può essere un fact simile di questa diciamo qualcosa di simile a questa questo approccio qui ma volendo andare sul concreto anche per insomma un po' per chiudere la puntata se io volessi spiegare quali sono i punti da cui partite come iniziare ad approcciare a questa metodologia qualche risorsa da utilizzare come possiamo arrivarci allora sulla cosa che dicevi tu prima il fatto che non è solo una questione di developer ma riguarda tutti aggiungo un'altra piccola hint so che sono tante informazioni però la tina è veramente importante ovviamente noi abbiamo parlato solo del lato developer e ops che poi sono le cose che sono più a cuore a me come ex developer diciamo ormai però tendenzialmente se ci pensi questo sistema ti permette di avere anche una piattaforma dove tenere sotto controllo tutte le cose che ti succedono in azienda e quindi la possibilità di avere una governance a 360 gradi di tutti i progetti che si portano avanti di vedere i pezzi da un livello più alto rispetto a quello del singolo developer sul singolo progetto quindi in realtà è proprio una piattaforma che poi come dicevi tu aggiungerà effettivamente tutta l'azienda sulle risorse in questo momento come potete immaginare essendo una metodologia estremamente nuova non c'è moltissimo se posso dare un consiglio personale c'è il blog di mia platform sia io che dei colleghi scriviamo tantissimo su platform engineering in maniera generica quindi lì potete trovare sicuramente le risorse un po' più specifiche ad esempio prima quando parlavo di R-BAC su quel contesto lì ne parlavo perché in questi giorni se la scrivono un blog post che a breve lanceremo lì quindi giusto per farvi capire che ci sono dei materiali che possono essere utili poi sul dove trovare informazioni invece più specifiche sulle tecnologie e quant'altro io la cosa che dico è tutta questa roba è particolarmente come dire relazionata al cloud quindi la CNCF è sicuramente uno dei posti dove poter trovare più spunti risorse e tecnologie relative a questi sistemi ovviamente non solo a questi ma tanto altro però secondo me quello lì è uno dei posti migliori dove andare a trovare questo genere di informazioni e da questo punto di vista aggiungo anche che ci sono come dire risorse che poi come dire messe assieme portano a questo argomento quindi se io da developer voglio saperne di più da dove inizio? Beh inizio dalle basi capire come funziona Docker Kubernetes come funzionano delle pipeline di continuous integration dei delivery e tutto quel mondo lì se io da Ops voglio fare il salto avanti come faccio a farlo? Beh capendo come ad esempio centralizzare i log gestire in maniera univoca le dashboard gli allarmi e tutta quella parte lì di come rendere self-service la creazione di nodi stanze progetti e insomma tutto quel mondo lì quindi in realtà come dire se parto da developer le risorse sono quelle lì se invece voglio una visione più ad ampio respiro probabilmente andare a guardare le tecnologie che oggi fanno parte del landscape della CNCF più tutte le risorse che rilascia la CNCF e secondo me il blog del mio platform soprattutto visto che è anche in italiano possono essere dei buoni punti di partenza e noi metteremo sicuramente un po' di link nella descrizione della puntata così da dare punti di riferimento perché sono risorse assolutamente utili e secondo me conviene partire da là visto che anche voi avete un po' di esperienza la state maturando sul campo quindi meglio di voi nessuno può darci dei razionali in questo momento probabilmente su questa metodologia quindi lo seguirò anche io perché penso che comunque anche come dicevo prima è qualcosa che stiamo riciclando una metodologia che tende a riciclare questa è forse l'idea sbagliata però questo è quello che mi viene in mente in questo momento cioè riutilizzare una metodologia il buon senso per riutilizzare le risorse insomma risparmiare io da questo punto di vista penso che invece cioè diciamo una scelta elogica esatto non è sbagliato quello che dici però penso anche che nella vita ho spesso fatto e rifatto le robe mille volte quindi questo mi permetterebbe di non farla e secondo me un'altra roba che ribadisco servirebbe un'intera giornata per parlare tutti i lati positivi immaglarti una persona nuova che arriva in azienda e la devi fare un boarding su un progetto che magari è già avviato da Annece eccetera un progetto scritto così magari composto da più moduli ben documentati perché ovviamente se vuoi riutilizzare devi documentare eccetera e quant'altro è sicuramente molto più efficente io ho fatto un boarding anche durati mesi per capire come funzionava una roba perché ovviamente non c'era nulla di fatto bene quindi sì è vero che tendiamo a riutilizzare però io penso che alla fine sia la parte bella del nostro lavoro cioè capire come poter ottimizzare e poi applicarlo assolutamente assolutamente guarda amici io ti ringrazio enormemente per questo tempo che ci hai dedicato perché è un punto di partenza che va approfondito e lo seguiremo dal blog di mia platform lo seguiremo dal tuo canale youtube insomma dai vari punti che vorremmo mettere nella descrizione per poter far raggiungere questi 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 punti di attenzione insomma questi questi post da utilizzare come risorsa per noi io spero che ci siano altre puntate sicuramente sì perché insomma non avevamo già intenzione di sentirci ma io spero in una possibile che ci riusciamo a vedere di persona lo facciamo dal vivo in una stessa stanza insieme un po' adesso dai va bene sta bello non vedo l'ora assolutamente prima possibile grazie miccia alla prossima grazie ciao a tutti ciao